Novità in arrivo per tutto ciò che riguarda le concessioni e le autorizzazioni edilizie. Da oggi infatti gli uffici comunali Sportello Unico Edilizie e Sua Appattività Produttive non potranno più accettare le istanze e le comunicazioni che riguardano interventi edilizi. Il motivo risiede nel fatto che gli uffici stanno predisponendo la nuova modulistica relativa alla legge regionale numero 16 del 10 agosto scorso pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana numero 36 il 19 agosto scorso. Si tratta di una norma di recepimento del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, atteso che con le nuove norme edilizie sono state abrogate sia la concessione che l'autorizzazione edilizia, nonché le modalità di comunicazione e regime libero della precedente normativa regionale. A breve arriveranno ulteriori comunicazioni per i cittadini, fa sapere Orazio Marino, dirigente dell'area pianificazione e valorizzazione del territorio del Comune di Gela. Si avranno presto notizie in ordine alla ripresa delle attività di ricezione delle pratiche e sensi del nuovo provvedimento regionale. La nuova legge regionale infatti non prevede alcun regime transitorio, quindi è immediatamente vigente dal momento della sua pubblicazione.